Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col bianco e rosso Tibi Sport. Ci avviciniamo alla ripresa del campionato dopo tre lunghissime settimane di sosta, ma il calcio mercato è l'argomento che in questo momento tiene banco. Tiene banco anche la celebrazione dei 109 anni del Bari, perché non è finita. L'altro giorno è stato il compleanno del Bari, ma la festa vera e propria si terrà nei prossimi giorni. E proprio credo che l'ospite giusto per trattare tutti questi argomenti sia un ex leader della curva come Roberto Maffei. Ciao Roberto. Spero che... buongiorno a tutti, che non sia l'ospite giusto per i 109 anni. Ne ne abbiamo visti un po' insomma, dai, questi 109 anni. Va bene, una trentina abbondante. Come ci siamo arrivati a questi 109 anni, Roberto? Io penso bene. Come tutte le squadre che non offrono tantissimo ai loro tifosi, sono molto amate. Quindi c'è questo classico meccanismo inspiegabile del gioco del calcio, dove quantomeno una squadra ti dà, tanto più tu la ami. E se abbiamo superato gli anni bui delle scommesse, che per me sono l'unica cosa che non ho accettato, in questo amore non ricambiato, ho accettato tutto, retrocessioni, mancate promozioni, mancata Europa dolosamente voluta e non voglio tornare su questi argomenti dalla gestione precedente. Da tutto accettato, i capitani coinvolti nelle scommesse mi hanno fatto male e non li ho mai perdonati ed è stato forse l'unico momento in cui la mia fede ha vacillato. Senti, di questi tanti anni vissuti accanto al Bari, qual è il momento che ritieni immemorabile, indimenticabile, quello al quale sei più affezionato? Per me, ovviamente. La cavalcata di Bolchi con la Coppa Italia di Serie C, ma la cavalcata di Bolchi, quest'uomo circondato da uomini, ora non me ne vogliono i calciatori di oggi, ma incontrare questi calciatori per strada o in aeroporto avevi la sensazione di trovare dei signori, delle persone normalissime, non c'era tanto agio, non c'erano i capelli fatti così, c'erano tanti veri uomini, Piraccini, Sola, Cupini, con un mister come Maciste Bocchi, magari tatticamente non all'avanguardia, ma uomo vero che ci ha fatto fare quella cavalcata incredibile, con un gioco discutibile per carità, però molto molto bello. 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica, c'è un amico in linea. Pronto? Pronto Enzo, ciao, buonasera, sono Paolo, saluto Roberto. Ciao, ciao. Niente Enzo, siccome siamo fermi come acquisti per il centro avanti, il Presidente l'ha fatto capire anche che se non si attinge niente bisogna rimanere come stiamo. Beh, diciamo che Gian Casparo ha detto due cose un po' non dico in contrasto, ma un po' differenti, qualche giorno fa disse se non troviamo qualcuno che sia meglio di quelli attuali ci teniamo quelli che abbiamo, però l'altro giorno in un'altra intervista ha lasciato intendere invece che arriverà un centro avanti di livello, di livello molto alto, insomma un centro avanti che possa con i suoi gol spingere la squadra verso l'A. Roberto? Sì, penso che le due cose siano completamente differenti, una è la rivalorizzazione del ruolo e dell'utilità di maniero in vista di ipotetici miglioramenti sulle fasce, quindi maggiori cross dal fondo e l'altro invece secondo me è l'indispensabile, uno ricambio proprio, nel senso che non puoi avere un solo centro avanti in rosa, è comunque magari un centro avanti un po' più rapido, con delle caratteristiche diverse di quelli che fanno gol quando il gol non è nell'aria, perché poi in Serie B si vincono le partite così, quando la partita è da 0 a 0 oppure l'hai ormai persa, la pareggi, la stai pareggiando e la vinci, quei gol tornando ai nostri tempi di cui ti parlavo, alla Messino o alla Galluzzo, cioè il golletto all'improvviso è una partita equilibrata che ti fa 3 punti. Guarda domani avremo di nuovo qui ospite Toto Lopez che è venuto due volte in trasmissione, approfitto della sua permanenza a Bari per averlo, io lo avrei ogni giorno Toto Lopez. Mi ha massacrato a Burraco, mi ha massacrato a Burraco, mi ha massacrato a Burraco, quindi ragiona come a centro campo anche sul tavolo verde. Eh va, e l'intelligenza si trasferisce su tutti i fronti. Noi gli ricordavo Toto Lopez come a volte per vincere una partita bastasse uno schema su punizione, tu ricorderai che il Bari ha risolto parecchie partite all'extremis con la foglia morta di Lopez per Galluzzo che spuntava dietro la barriera. Che entrava nel secondo tempo. E faceva gol, pensa un po'. Sì, sembrano delle sciocchezze, sono proprio quelle cose che ti dicevo, cioè nessuna squadra vince un campionato, va in Serie A o vince uno scudetto perché domina tutte le partite tranne quando gli squilibri sono esasperati. Ci sono delle partite che sono equilibrate che una squadra le vince e un'altra no. E lì il calciatore fa la differenza, non c'è modulo, non c'è allenatore, non c'è fattore campo, c'è il calciatore furbo, esperto che si fa trovare. Ecco, il pazzine di questa situazione, Verona è una gran bella squadra, ma non è la squadra che è da primo posto. C'è un centramanti che qualsiasi parla, che vaghi nella zona della regione, la mette dentro. L'abbiamo purtroppo partito sulla nostra pende. L'abbiamo purtroppo visto una partita, la migliore partita del Bari in trasferta. C'è un'altra telefonata, pronto? Enzo, Nicola, tripertista. Ciao Nicola, ciao. Enzo, ascolta, due aggressioni riguardo alla differenza tra la Serie A e la Serie B. Ieri seguivo l'alteprima di Torino-Milan e hanno poi intervistato anche Sacchi, hanno fatto, io ti dico, gli spezzoni che ho visto, hanno fatto anche la classifica dei dieci mister più bravi nella storia del calcio e hanno messo al decimo posto a Rigo Sacchi. Per me lì doveva stare Catuzzi, perché Sacchi è un discepolo di Catuzzi. E però, vedi, queste cose di quando il calcio non conta, cioè non si è allenatore di una squadra di grido, allora vieni tralasciato. L'altra sensazione che ho avuto ieri è che parlando della società Milan, come anche della società, va bene, forse della società Juventus no, ma della società Milan, facevano una domanda agli addetti ai lavori e dicevano la classifica come mettevano società allenatore per questo, per le vincite delle partite, no? Società allenatore squadra, ma dei tifosi non ne hanno mai parlato. Cioè questa è la considerazione che hanno, cioè in Serie A dei tifosi, non ne hanno proprio. Io preferisco stare in Serie B ed essere valorizzato come la nostra tifoseria, che è prima sempre a livello nazionale, presente allo stadio, e non che andiamo in Serie A e essere messo all'ultimo posto. È un discorso molto integralista il tuo, in realtà, insomma… Io spero che lo preferisca solo lui, perché ogni tanto mi viene il dubbio che lo preferisca anche la Lega di B, che il Bari sia in Serie B. Perché fa comodo la Lega, questo vuol dire la Lega di B nel senso che fa numeri, insomma. Sì, perché non saremo gli ultimi assolutamente neanche in Serie A, l'abbiamo dimostrato ogni anno, anzi ci attestiamo ovviamente in Europa League a livello tipo Serie A, benissimo, come sempre abbiamo fatto. Invece su Enrico Catuzzi sicuramente è l'allenatore più preparato, innovativo che abbiamo avuto a Bari, però nel calcio purtroppo, e a ragione lui, contano i risultati. È il momento opportuno per andare in Serie A quelle due maledette partite con la Sampdoria e col Verona, purtroppo una tattica molto brillante ma disattenta a livello difensivo ci condannò ad andare in Serie A, se no sarebbe stata la promozione più bella di tutti i tempi con i calciatori barisi. Roberto, poi, dopo la posa pubblicitaria, ti chiederò, perché abbiamo toccato un aspetto, quello della tifoseria, siccome tu hai vissuto, continui a vivere le trasferte da tifoso del Bari, l'hai organizzata nel passato da leader della curva, che cos'è quello che io chiamo il priscio di seguire la squadra fuori casa? Perché guarda che io credo che sia diventato un fatto quasi tipicamente barese, nel senso che in pochi altri posti, forse in nessun altro posto, mille persone prendono e vanno a mille chilometri di distanza per cose rilevanti. Poi mi spieghi esattamente la tipologia del tifoso barese che vengono a spiegare. A tra poco. Reccoci insieme, reccoci insieme con il Bianco e Rosso TV Sport e con le splendide immagini della curva, adesso le vedremo insieme e voglio chiederti, torno alla domanda che ti ho fatto prima, cosa è che spinge il tifoso barese ad andare in trasferta a mille chilometri di distanza, come se nulla fosse, perché io dico per carità si può anche andare, però mi sembra, lo dicevi prima durante la pausa pubblicitaria, prima si andava alla partita particolare in tanti, si andava quando c'era trasferta a Pescara piuttosto che a Salerno, ad Avellino, oggi invece vedo anche al nord tanti tifosi baresi. Perché secondo te? Tanti tifosi baresi di Bari, prima andavi al nord, 30-40 eravamo di Bari, 50-60, poi man mano che i tempi sono, che gli anni sono passati ovviamente aumenta perché tu fai più generazioni, nel senso che all'inizio hai una generazione di tifosi di curva, poi ne fai due, tre, quattro, adesso siamo a cinque generazioni di tifosi di curva, quindi numericamente è più facile avere dei numeri, ma adesso c'è questa consuetudine che è davvero emozionante per me, che peraltro vi partecipo sempre, ogni volta come se fosse la prima volta, quando mi rendo conto che a Verona di domenica pomeriggio alle 17, oltre mille tifosi che hanno fatto sbalordire anche i tifosi del Verona, io ho degli amici tra i tifosi del Verona, amici della mia epoca, che sono rimasti sbalorditi di questa partecipazione e di una partecipazione da Bari, quindi dei baresi, è una cosa meravigliosa che ci attesta a mio modesto parere, sicuramente in vetta alle tifoserie italiane, dato il rapporto partecipazione risultati. Ecco ma perché, capito tu perché? Perché siamo malati, non c'è niente, siamo fissati, non c'è una spiegazione, tanto non capirai, non è mica casuale, nessuna frase casuale. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto, buon pomeriggio. Ciao. Ciao Enzo, sono Francesco. Ciao Francesco, ciao caro. Saluto Maffei con un abbraccio, mi ricorda i tempi andati dei Veri Ultras al campo, io faccio parte di uno dei gruppi storici, vabbè comunque andiamo avanti, bei tempi. Senti Enzo, volevo farti una domanda, prima una considerazione, poi volevo sapere cosa ne pensa anche Maffei. io mi sto veramente meravigliando di questa completa mancanza, assoluta comunicazione da parte della società, prima con la carta stampata e con voi giornalisti e poi penso che sia anche una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Io dico questo, guarda mi dai una buona opportunità di dire una cosa, per carità l'altro giorno anche il presidente Gian Caspo è stato molto disponibile, non si confronta, è intervenuto in diretta durante proprio il Biancheroso TV Sport, però molti tifosi mi dicono ma perché non sentiamo mai parlare i calciatori in conferenza stampa, perché non c'è, io credo che un po' da questo punto di vista si debba migliorare, si debba fare di più perché è proprio, non dico tanto noi, voglio dire il nostro pezzo lo possiamo anche scrivere, ma la piazza di Bari ha bisogno di contatto con i giocatori, ha bisogno di vederli, ha bisogno di sentirli parlare, ha bisogno, questa è una piazza passionale che vive la quotidianità dei suoi protagonisti, io credo che da questo punto di vista questa società debba fare qualcosa di più, ho notato una sorta di scolla, ma già lo scorso anno era accaduto qualcosa, ricorderete, insomma non era all'inizio, c'era persino un'abbondanza di comunicazione, poi improvvisamente ci fu una sorta di cortocircuito, però io credo che questa società debba fare qualcosa di più, perché la gente avverte questo bisogno, ripeto, non lo dice bene il nostro amico, un po' può essere anche comodo per noi o utile per noi sentire i protagonisti, ma forse è una esigenza che avvertono ancora di più i tifosi. Quando troppo e quando niente, abbiamo avuto l'annata di Gianluca in cui soprattutto la fase iniziale, c'era un'esasperazione di visibilità, molto bella però alle scuole, poi pian pianino, non è detto che un profilo basso non possa anche essere utile in certi momenti, però diciamo che la piazza ormai è matura, sostanzialmente non è più umorale come 10-15 anni fa, tutto sommato le presenze, l'atteggiamento allo stadio in linea di Massiva non sono così cambianti, cangianti come erano una volta quando bastava una sconfitta o una vittoria fuori, il tifoso Barista si è anche equilibrato, non solo è ancora più appassionato, si è anche equilibrato. Senti, abbiamo parlato prima di tifosi e di tifo organizzato, abbiamo visto le immagini degli Ultras, tu sei stato proprio leader di quel gruppo, cosa è cambiato secondo te tra gli Ultras e i seguaci della Nord? Cioè è cambiato soltanto un nome o è cambiato un modo di far tifo, è cambiato un modo di vivere insieme, cosa è cambiato? Tutto cambia, io dico la verità, quando sento dire bei tempi, come ha detto Francesco, tutti i tempi sono belli, c'è da spezzare davvero una lancia per i ragazzi di oggi, i seguaci, i bulldog, i reddavidi e tutti i gruppetti più piccoli che compongono poi queste tre realtà che oggi è un miracolo continuare a fare curva, a fare tifo organizzato, a non rischiare anche per un piccolo equivoco di ricevere un daspo, quindi di perdere un lavoro, oggi loro sono veramente degli eroi, io non sono di quelli che tira acqua al mio mulino, forse una volta era più dura andare in trasferta, ma sono discorsi che lasciano il tempo che trovo, oggi è difficile farlo, il fatto che a Bari si abbia ancora una curva unita, capace di fare il tifo ma davvero organizzato, è un miracolo, quindi io dico che questi ragazzi da curva no di oggi sono degni, degnissimi prosecutori di una storia importante, la mia, quella di Ciccio, soprattutto quella di Franco Margulli, il nostro fondatore, Alberto Parigino è esempio, perennemente presente, ma oggi sono degli eroi, perché oggi è impossibile, è impossibile fare tutto, è impossibile fare rumore, è impossibile fare colore, è impossibile esporre delle idee, è impossibile essere sarcastici, è impossibile ci riescono lo stesso, quindi quello che è cambiato non ha importanza, il vero miracolo è che loro ci riescono ancora. Quindi faccio un'altra domanda a proposito della curva, intanto c'è un amico in linea, pronto? Sì Enzo, ciao e un saluto a Roberto, un abbraccio a Roberto. Enzo, io, vabbè, una domanda a Roberto, cioè più che a Roberto magari come portavoce, perché in casa io noto, ho vissuto la curva, forse stando in mezzo non ti rendi conto, adesso non vado più in curva, però vado comunque allo stadio, in casa non abbiamo la spinta, cioè secondo me la curva non ha quella spinta classica del nostro tifo, non ho mai capito, è da un bel po' che mi faccio questa domanda, come mai non si riesco a coinvolgere tutta la curva? Poi un'altra cosa, lo dissi a Ciccio Lepore, lo rivolgo anche a Roberto, le scuole, le scuole, i punti di ritrovo dei ragazzi, perché qua io noto che stiamo perdendo generazioni di ragazzini, io oggi passavo dal Polivalente, io andavo a scuola al Polivalente, una fesseria, ho notato un ragazzo col borsone del Bari che stava andando a fare allenamenti, io ho giocato nel Bari, prima chi giocava nel Bari, il ragazzino che giocava nel Bari, non perché si sentiva, io non mi sentivo negli altri, però veniva guardato con ammirazione, io noto che adesso invece non c'è tutta questa ammirazione, proprio perché non viviamo l'orgoglio, io so cacchio di orgoglio e di appartenenza, è una fissa mia, però chiedo a Roberto come mai non si riesce a coinvolgere le scuole e tutto quanto? Grazie, grazie, mi dispiace, grazie del saluto, ti abbraccio anch'io, ma non sono d'accordo, è esattamente il contrario, diminuiscono finalmente le magliette di Inter, Milan e Juve, aumentano i ragazzini che tifano Bari, aumentano i ragazzini in trasferta, io porto sempre i miei figli e le robiche, saluto, loro spesso sono accompagnati da amici, ormai anche dai finanziati che devo fare, ah già, se già era da questo punto, sì, succedono queste cose, per cui non sono d'accordo, c'è un incremento di baresità, il rumore è probabilmente che stiamo diventando sordi, caro mio, perché se ho capito bene che abbiamo più o meno la stessa età, stiamo diventando sordi, in relazione a quello che succede oggi nelle curve italiane, negli stati italiani, è il più rumoroso in assoluto, mettiamoci anche che noi che vediamo queste partite meravigliose, con una classifica emozionante, mettiamoci anche che la presenza c'è, ma lo scoramento spesso anche. Senti, tornando un po' al discorso della curva, nei giorni scorsi ha fatto un po' discutere un articolo, scritto peraltro dal mio validissimo collega, che saluto Giovanni Longo, che facendo un po' anche l'analisi della curva del Bari, faceva capire che non sono tutti stinchi di santo, tanto per essere chiari, che ne pensi? Allora, innanzitutto, prima lui ha detto portavoci, non sono portavoce di nulla più, se no riesco a essere portavoce di me stesso, chiariamolo, sono in buoni rapporti con tutti i tifosi di oggi, perché mi piace ancora confrontarmi e ascoltare. L'articolo di Giovanni, bravissimo ragazzo, è assolutamente in buona fede, oltre che ottimo giornalista, è stato molto disinvolto, a mio modesto parere, e se io voglio parlare di una realtà, ho il dovere, a mio modesto parere sempre, personale parere, di rivolgermi agli interlocutori diretti di quella realtà e descriverla quindi con precisione, ma soprattutto a mio parere non c'entra nulla individuare fattori personali dell'esperienza di alcuni membri dei tifosi e metterlo in relazione alla curva. La curva è proprio un riscatto di ogni genere, quando uno va in curva non è più quello che generalmente è per la strada, se io mi diverto ad andare in curva, perché in quel momento non sono più il dottor Maffei, se mi diverto ad andare in trasferta, in quel momento non sono più un dentista, sono un tifoso, come tutti gli altri, ed è la meraviglia, è la magia di una curva, tutti uguali, si abbatte tutto, cito sociale, livello culturale, sfortune della vita, vizi, stravizi, difetti, e quindi quando si commenta la curva bisogna saperlo fare, per saperlo fare bisogna farlo con una persona di curva a fianco, in questo momento è giusto interpellare gli interpreti del momento, quindi chi si è prodigato per questo, ecco perché loro ci sono rimasti male. Anche se qualche tempo fa c'è stato a qualche, come dire, un fatto di cronaca con... Se non è legato, allora se il fatto di cronaca viene in curva per un motivo di curva, ma se uno si separa, che c'entra con il fatto che sta in curva per dire? A volte mischiamo le cose per dare probabilmente all'articolo un tono un pochino più roccheggiante, fammi usare questo... Visti che è roba tua insomma, sento un motorocchio infatti. Pubblicità, poi torniamo insieme con il Biancheroso e il TV Sport. Recoci insieme con il Biancherosso e il TV Sport 080 501 9998 per i vostri interventi, ma vorrei completare un po' il concetto che hanno lasciato in sospeso prima della pausa. Se si parla di un argomento, a mio modo di stare vanno interpellati gli attori, i protagonisti, anche la descrizione delle scissioni, delle fuoriusciti, vanno conosciute per bene e quindi non è facile scrivere quell'articolo, che peraltro è anche abbastanza preciso sotto mille aspetti. Io conosco Giovanni e quindi sicuramente in assoluta buona fide, peraltro lui è innamorato della curva, quindi so che è in buona fide, però bisogna essere più precisi perché dietro ogni movimento di curva c'è una storia, ci sono delle persone e quindi vanno per questo rispettate, ma penso che l'incidente sia chiuso. Non ci scordiamo di ricordare la festa, mi hanno dato questo, qui si faccio il portavoce, tanto è facile, il Bari Club Pane Pomodoro, quindi per iscrizioni bisogna andare a Pane Pomodoro il 24 gennaio alle 20, presso un ristorante penso di vicino Bitritto, non mi ricordo il nome, ci sarà una festa quindi con una cena, quindi chi vuole interessarsi a Pane Pomodoro da Orlando per le prenotazioni, ci sarà la festa diciamo più ufficiale con… Per i 109 anni del Bari, c'è un'altra telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Pino Pinto, un saluto da Roberto, senti Enzo, sul discorso della presenza massiccia in trasferta, io che le faccio tutte da una vita, avrei qualcosa da ridire, mi spiego meglio, io ho visto tornare la gente in trasferta, dopo il discorso dell'anno dell'area montata, perché negli ultimi tempi dell'era matarrese, noi andavamo in trasferta 30-40 persone, va bene, non andavano neanche lo stadio in casa insomma? Lo so, questo è chiaro, non è che deve lasciarsi trascinare dall'entusiasmo, anche quest'anno devo dire, rispetto all'anno scorso, io quest'anno ho visto una presenza massiccia a Verone e a Prosinone, ma noi siamo andati, Roberto lo sa benissimo, siamo andati a Novara con un pullman, Seguaci e Bulldog, c'è un unico pullman da Bari, poi gli altri erano tutti del nord, o a Brescia, ci sono state le trasferte dove questa presenza, e questo io me lo spiego con il discorso che la gente vuole la Serie A, cioè il Serie B è... È stretta, va bene, va bene, è solo quello, non è solo quello, è che costa, il campionato di Serie B si gioca con una frequenza pazzesca, io che ho tra i miei collaboratori, tra i mariti delle mie dipendenti, gente che ha uno stipendio in casa, se una persona che ha un solo stipendio in famiglia gli chiede di fare tre trasferti in un mese, caro mio, bisogna anche comprendere queste cose, ringraziamo il cielo di poterle fare noi tutti e capiamo che questi ragazzi scelgono, scelgono una, ne lasciano due, non esageriamo, non è che si possa... se vogliamo la Serie A è più facile anche come collegamenti, treni, pullman, però Novara, non sai dove non va, c'è gente che non si sposterebbe a Novara a trovare i parenti, appunto stanno dicendo e va invece a vedere la partita, non possiamo esagerare nelle pretese. Parliamo un po' dell'aspetto tecnico, insomma, perché comunque calcio-mercato, che notizie ci sono? Oggi ci aspettavamo la presentazione di Macek, o Macek che dir si voglia, giocatore della Juventus, giovanissimo, 19 anni, Repubblica cieca, devono essere definiti ancora dei dettagli, quindi Macek che si sta allenando già con il Bari, probabilmente verrà presentato nella giornata di domani. Si attende l'annuncio di Salzano, il giocatore del Crotone, che dovrebbe essere bianco-rosso ormai a momenti, giravoce confermata, me ne ha parlato poco fa Cristian Siciliani che ha contattato il procuratore di Micai, Battistini, che è Micai e nel milino della squadra belga, il Genk, peraltro una buona squadra che credo che abbia disputato anche la Coppa dei Campioni, se non vado errato, Battistini ha confermato che c'è questo interessamento ma che la priorità del calciatore è firmare per il Bari e questo dovrebbe accadere nel giro di poche ore. Strategie secondo me per quanto riguarda Micai, viceversa questi giovani delle grandi squadre in prestito secondo me sono la politica più sbagliata che si possa fare, per quanto ci possa essere poi un premio in danaro, i giovani dobbiamo cercarli a casa nostra e vedo che c'è una certa difficoltà a promuoverli in una città dove gioca a calcio praticamente il 100% e dove i piccoli sport, i sport minori non riescono a trovare interlocutori proprio perché si gioca solo a calcio. Per il cesso di calcio. Io direi che dovremmo veramente saltare, anche per motivi economici, il calcio ormai è povero, è in crisi quindi bisognerebbe cercare disperatamente nelle piazze, nei campi, attori, soprattutto con la serie B così scadente, mamma mia, non trovare 5-6 indigeni pronti a fare una buona serie B è davvero un delitto. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta, mi interessa anche l'aspetto tecnico di Roberto Maffei perché insomma alcune tue valutazioni anche nel passato hanno fatto discutere perché comunque sei molto diretto. A questo Bari ti piace sì o no? Diciamo che per quella che è la serie B è una discreta squadra. Mi fa specie che a questo Bari mi piace perché c'è un calciatore che doveva venire per stare in panchina e giocare magari gli ultimi 20 minuti che invece corre più di tutti gli altri e forse Totobrienza dà a questo Bari un po' di quella imprevedibilità che manca completamente, che rende un po' noioso il gioco. Mi piacciono i difensori, mi piace la squadra solida per la serie B, se non avessi avuto, io ritengo che si sorvoli sulla follia Icciazzo che vale 5-6 punti, mettiamo 5-6 punti a questa squadra senza voler dare la croce addosso a questo portiere. Entrare per una polemica societaria e difendere la porta è difficile, mentre se una mezzala gioca per una polemica societaria non succede nulla, un portiere giovane ne ha un, quindi non sto condannando Icciazzo, sto condannando chi ha giocato con i punti decisivi della squadra per tentare di risparmiare qualcosina sul contratto di Michal, questa è stata veramente una piccolezza della società, l'unica che mi sento di condannare, per il resto sto guardando e sto osservando. Poi magari Icciazzo nel momento in cui il Torino te lo dà, ti dice che lo devi far giocare insomma. Allora vedi come va il campionato e poi ti regolano. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Un saluto a Roberto. Comunque in curva non c'è più di una volta, perché come segna la squadra avversaria si ammoscia tutta la squadra. Si ammoscia la curva, non la squadra. Vabbè grazie per il tuo intervento, ma insomma un po' ha ricalcato quello che hai detto. Un altro come me che non sente bene, stiamo diventando vecchi, non sentiamo bene. Si afflosce i lati della curva come succedeva anche ai tempi miei, il gruppo centrale non molla mai. Poi prendiamo un po', segna troppo spesso la squadra avversaria. Forse questo è il problema. 085-019998. Roberto c'è un giocatore che ti piace per spirito? Perché insomma mi interessa c'è la partita vista dal tifoso medio, del tifoso dal palato raffinato e c'è la partita vista dal tifoso della curva. Quale giocatore del Bari che più si, come dire, identifica nello spirito del tifoso della curva? Non mi stai mettendo in difficoltà. Io ti dico, Giovanni, così perché non ne vedo. Né mi faccio ingannare dal rocambolesco movimento di Romizzi, no, ritengo che il dicessere di inizio campionato, duro, cattivo, ora è evidente che è in difficoltà fisica e quando è in difficoltà fisica si nervosisce molto. Forse era il giocatore che mi piaceva di più per motivazioni, se no devo andare per forza verso la panchina, il vecchio Giovanni. C'è un'altra telefonata, pronto? Buonasera, sono Eugenio. Ciao Eugenio, ciao. Approfitto del tema della giornata per dire un mio pensiero. Io penso che tutto il calore di cui sta vivendo adesso ancora la Bari sia derivato dalla stagione fallimentare. Voglio dire, i tifosi veri, veri, che vanno allo stadio anche col Bari in interregionale, sono sempre quelli. Tutto l'indotto, tutto ciò che adesso è di più, lo dobbiamo soltanto grazie alla fantastica stagione fallimentare. Io penso questo, è un mio pensiero. Grazie. Voglio dire, scusate, voglio dire, perché non provate con sorpeggio ogni, una oltre settimana, un tifoso comune ospite in trasmissione? Un tifoso comune, va bene, può essere anche un tifoso comune. Grazie, saluto tutti i miei amici. Ciao, ciao Eugenio, grazie. Sei d'accordo con quello che dice il nostro amico da casa? No, perché gli abbonati del Bari storicamente sono sempre gli stessi da quando andavo con mio padre allo stadio, allo stadio vecchio, mi piace chiamare, allo stadio vecchio il numero di abbonati più o meno è sempre il solito. Sappiamo che la roccaforte proprio sono 15-18 mila tifosi, a cui se ne aggiungono 10-15 mila per le annate particolari, sempre tenendo presente che l'abbonamento di fine anno ha un costo, siamo in piena crisi economica, non si può pretendere veramente che la gente… e oggi non si può più scavalcare, ti dico anche queste cose divertenti, perché allo stadio vecchio un 20-30% di spettatori saltavano le inferriate o riuscivano a passare senza biglietto, oggi è molto difficile e quindi chi ha tre figli non può portare, non può fare quattro abbonamenti, diciamoci la verità. Queste intanto sono le immagini del play-off contro il Crotone, quando vinciamo a Crotone, quando c'era tanta gente davanti al comune, guarda quanta gente che seguiva la Piero a Crotone, ovviamente, ci mancherebbe altro, non si ha mai detto insomma. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, abbiamo ancora un minutino, magari riusciamo a prendere un'ultima telefonata al volo, tornando un po' all'aspetto diciamo squisitamente tecnico, secondo te cosa serve al Bari per fare un grande girone di ritorno, perché di questo stiamo parlando? se Parigini è quello che... ma a Bari succede delle cose meravigliose, io Furlan a Terni mi impressionò in modo pazzesco, Iacchimoschi a Como, un'ira di Mio, sì. Io ero in tribuna, perché era una tassifesta vietata, avevo una credito, ero in tribuna, vedi quest'ira di Dio, no forse l'anno prima, un'ira di Dio sulla fascia, poi arrivano a Bari è nulli, e poi invece il terzino del, che tentò di pareggiare, come si chiamava, poi ho fatto incidente, Del Grosso, nell'ultima partita, tutto campo, voleva far gol per forza destra, sinistra, qui succede un fenomeno meraviglioso, sarà che la città è molto bella, a tutti i calciatori Bari piace molto. Ciao Enzo, saluto Roberto, vecchio amico Ultras di tanti anni, sono Mimmo da Bari, non Mongeli, spero che si ricorda, io volevo dire solamente questo, che la curva, il tifo che c'è in curva con gli Ultras è qualcosa di speciale, c'è i ragazzi che veramente ce la mettono tutto, che si sacrificano, che devono dire pure le bugie alle mamme e alle mogli per andare in trasferta, queste cose vanno ricordate, non solo… Hai metto bugie per andare in trasferta tu Roberto? Non solo l'episodio di qualche malavitoso che c'è sempre stato in curva, da chi sia che sia, e anche in tribuna e in qualche altra parte, anche in tribuna ci sono state le scazzottate molto famose con i calciatori, quindi non lo dimentichiamo. Senti, la bugia più grossa che hai detto per andare in trasferta, te la ricordi? Non ho detto semplicemente che a 13 anni e mezzo stavo andando a vedere il Bari a Monza. E che hai detto, scusa? Ho detto famoso a Bari, movengo io, invece sono andato a 13 anni e mezzo, ce ne avevo ancora compiuto 14 anni da solo, completamente da solo, a Monza a vedere Monza-Bari, gol di Gaudino. Ah, quella partita, il gol da poster di Gaudino infatti. Chiamando con i gettoni mia madre alle 3 di mattina dalla stazione di Ancona, decretando quale è stata l'accoglienza a Bari? Mazzate, mazzate, mazzate. Però era bellissimo, 1-1, gol di Silva in fuorigioco. Gol di Silva in fuorigioco, perfetto. Vabbè, Roberto grazie per questa chiacchierata, grazie a Roberto Maffei, grazie anche a voi. A domani con il Bianco e il Rosso TV Sport, ricordiamo ancora una volta il 24, la festa per i 109 anni della storia del Bari, festa che si terrà... Rivolgersi a pane e pomodoro. Pane e pomodoro. La festa sarà altrove, però rivolgersi a pane e pomodoro. Ciao. Ciao.